Ben ritrovati amici del Centrometto Italiano. L'arrivo di una perturbazione dall'Atlantico determina un nuovo peggioramento. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per mercoledì 8 maggio. Molte nuvole al mattino, anche compatte, con locali fenomeni su Liguria e Piemonte, più asciutto altrove. Tempo stabile al centro-sud, con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio piogge sparse sulle regioni settentrionali sull'Alta Toscana, neve sulle Alpi oltre 1700-1800 metri, nuvolosità in transito al centro-sud ma con tempo asciutto. In serata e inottata ancora piogge al nord e sulla Toscana con fiocchi fin verso i 1500 metri sulle Alpi, asciutto ma con nuvolosità irregolare sulle altre regioni. Temperature in generale aumentano sia nei valori minimi che in quelli massimi, salvo una lieve flessione dei valori diurni al nord-ovest. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sempre sul nostro sito o sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.